I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza nell'ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Cosenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari interdettive emesse dal GIP del locale tribunale a carico di due soggetti, un consulente aziendale e un imprenditore per reati di malversazione a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Contestualmente i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza hanno sottoposto a sequestro preventivo per equivalente a carico di complessivi 13 indagati, beni immobili, quote societarie e conti correnti bancari e postali per un importo di 2 milioni e 100 mila euro pari al valore complessivo dei contributi pubblici indebitamente percepiti. Nello specifico all'esito di articolate indagini di Polizia Giudiziaria coordinate dalla procura di Cosenza ed eseguite anche mediante l'ausilio di intercettazioni telefoniche, appostamenti, accertamenti bancari e minuziose ricostruzioni contabili e documentali sia anomali ed ingenti flussi di denaro intercorrenti tra una rete di società cartiere creata ad hoc ad opera del professionista al fine di ottenere anche mediante l'utilizzo di emissioni di fatture per operazioni inesistenti emesse dall'imprenditore colpito o dalla misura interdettiva, indebiti finanziamenti erogati da Fincalabra SPA e da Invitalia SPA sia per l'assunzione di nuovo personale che per l'avvio di nuove attività produttive. Dall'indagine è emerso che dopo l'iniziale accredito degli importi finanziati sui conti societari di destinazione, tali somme venivano girati su altri conti correnti personali o carte prepagate per poi essere prelevati in contanti ed utilizzate per scopi diverse da quelli di attività d'impresa. Le indagini hanno consentito di disarticolare un sistema fraudolento ideato e orchestrato dal consulente con la compiacenza e la fattiva collaborazione degli altri indagati titolari di fatto e di diritto di 11 società beneficiari di finanziamenti indebitamente percepiti per un importo complessivo di oltre 2 milioni e 100 mila euro oggetto di sequestro per l'equivalente.